ed eccoci qua eccoci qua che ci appropinquiamo mamma mia ogni volta ogni volta è come se fosse la prima ma non vedete quanto è bello sto posto ragazzi ristorante bistrò grotte di salone e pesca sportiva trote e black bus bellissimo stupendo chissà se c'è qualche amico pure intravedo una macchina a me molto conosciuta c'è qualcuno che pesca ah ma c'è il lucone c'è il lucone nazionale adesso gli offriamo un bel caffè che luca è un caro amico eccolo qua ci sa giorni dopo ragazzi mamma mia che bello sto cielo ciao